Eri il migliore dei migliori. Il giorno più bello della mia vita è stato quando sei tornato a una vita onesta, hai costruito una famiglia e sei uscito da quel giro. Il presente di Chris Faraday è tranquillo e ordinato, una moglie, due figli e una ditta di installazione di allarmi. Figlio di un contrabbandiere di New Orleans, Chris ha ereditato la professione paterna, dimostrando di avere una passione smisurata per il pericolo e un'attrazione naturale per l'illecito. Un talento, questo, che nonostante l'arresto del padre e le promesse fatte alla sua Kate, è costretto a rispolverare per salvare proprio il destino della famiglia. Andy fa parte della mia famiglia, risolviamo la questione. Ti dà due settimane. Ad Hollywood i remakes sembrano aver riscosso sempre un certo successo, soprattutto dal punto di vista produttivo. In modo particolare, negli ultimi anni l'attenzione delle grandi major si è concentrata sui prodotti dell'Europa del Nord. Sotto la spinta di questa tendenza sono stati omaggiati autori come la danese Susan Beer, Nils Ardenoplev e per ultimo Oscar Jonathan, che pur non essendo particolarmente conosciuto al grande pubblico, ha avuto il merito di costruire uno dei thriller più costosi della storia del cinema islandese e di aver attratto l'attenzione del mercato statunitense. Per questo motivo il suo Reykjavik Rotterdam è stato trasformato nel più orecchiabile ed evocativo contraband, diretto dall'attore e regista Balthasar Kormakur, che dopo aver recitato nella versione originale, questa volta si posiziona dietro alla macchina da presa nel tentativo di realizzare il perfetto prodotto hollywoodiano. Il risultato però è un film che, proprio per le sue caratteristiche dichiaratamente americane, tende a essere impersonale e privo di qualsiasi originalità. Dov'è mia moglie? Degli di non buttare la roba in mare. Non troverai mai quei soldi. Premi il grilletto!